carissimi fratelli sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi oggi giorno del signore giorno dedicato totalmente alla gloria di dio al suo servizio per questo il signore ordina riposo dalle fatiche non solo quelle fisiche ma anche quelle mentali dalle preoccupazioni cioè oggi cammina col signore tagli culto perciò partecipa anche la celebrazione eguaristica l'oda il suo nome perdona qualcuno che ti ha offeso guarda i tuoi familiari negli occhi benedici il signore per averte ridonato da gloria a lui in ogni cosa e ristor la tua anima ci bandoti della parola di dio ci bandoti della preghiera del bene che lui ti dona per ricominciare la settimana con uno spirito rinnovato sapendo che tutto concorre al bene di coloro che amano dio ma che anche la nostra storia ha un obiettivo non solo la storia personale quella familiare ma la storia dell'umanità ha un obiettivo l'ingresso nel regno di dio il rinnovamento di tutte le cose poiché dio ci ha creati la gloria e la domenica è immagine di questa gloria e anticipazione di questo regno di dio che noi già viviamo su questa terra perciò siamo invitati a vivere in santità nell'amore vicendevole nella pace nella concordia e la liturgia di oggi ci mette davanti l'avvento del regno di dio che viene preceduto naturalmente la purificazione da rinnovamento le istituzioni ma viene rinnovata anche il creato chiediamo allo spirito santo di farci luce poiché siamo davanti a misteri nascosti gesù stesso annunciava che certe cose non sono date per essere rivelate ma invitava tutti i suoi fedeli ad essere sempre pronti ad andare con lui ricordiamo come al tempo di gesù c'era una corrente religiosa tra gli ebrei quelle degli esseni in modo particolare che viveva in attesa della venuta del messia ma l'attesa non era soltanto la redenzione dal peccato attesa era quella della rinnovamento di tutte le cose anche della risurrezione dei morti questa è l'attesa spasmodica che c'è nel cuore di tanti che rinunciavano anche al matrimonio rinunciavano alle carriere per essere pronti ad andare col messia nel momento in cui sarebbe arrivato gesù è venuto ma è venuto prima di tutto in connessione col peccato a redimere l'umanità è venuto su questa terra a fare suo atto d'amore tutta la creazione è opera dell'amore di dio e la redenzione è opera dell'amore di dio per questo fratelli siamo davanti a un grande mistero di amore e anche l'avvento di gesù il suo ritorno è un ritorno di amore non per venire a fare i castigamati di quanti hanno peccato ma a cercare la redenzione di tutti infatti verrà offerta la salvezza a tutti non tutti accetteranno non tutti si piegheranno ma lui viene ad amare e a stabilire il regno dell'amore su tutta la terra perciò invochiamo lo spirito santo vieni spirito santo manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calore riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amèn signore gesù noi invochiamo oggi la tua venuta invochiamo il tuo avvento maranata vieni signore tutto il creato invoca la tua venuta tutta la terra l'umanità in particolare invoca la tua venuta c'è tanta incertezza tanta sofferenza tanto smarrimento e tu signore stai guardando l'umanità con occhio di comprensione di compassione di misericordia non stai pianificando di venire a castigare stai pianificando di venire a salvare ad amare come dice il profeta il mio cuore soffre di compassione e non verrò perciò nella mia ira io sono il santo in mezzo a te non sono un uomo perciò non verrò nella mia ira e noi così ti attendiamo signore in mezzo a tutte le vicende dell'umanità che si sta ribellando alla tua chiamata che vuole prendere possesso del mondo intero anche delle coscienze delle persone della mente degli uomini tu soffremi di compassione e noi guardiamo a te la tua compassione verso di noi al tuo amore misericordioso guardiamo con sollecitudine alla tua mano che ci indica la strada da seguire anche in questi tempi in cui sembra che le nuve abbiano inoscurare il mondo intero ma tu sei quella luce che dimora in mezzo a noi a te fissiamo il nostro sguardo e fissiamo lo sguardo alla tua promessa che non mancherà come certo che sorge l'aurora così è certo che viene il signore come il cielo vista dalla terra così i miei pensieri sono diversi dai vostri signore gesù fa luce a tutta l'umanità vieni mara nata vieni signore gesù ti imploriamo per l'intercessione della tua santa madre che prega con noi intercede per noi ti prega signor tutto il sangue dei martiri della storia ti invoca signore tutto quello stuolo di animi fedeli che hanno dato la vita per te che ti hanno seguito nella totale immolazione per l'avvento del tuo regno per tutto quel grido di innocenti bisognosi di luce di futuro di salvezza mara nata vieni signore gesù a te la lode la gloria per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima tu continuamente in questi ultimi secoli ti sei manifestato tante parte della chiesa sollecitando alla conversione sollecitando all'osservanza del precetto di gesù dell'adempimento della sua parola oggi tu preghi insieme a noi intercedi per tutta l'umanità apro oggi il cuore di tutta la tua chiesa alla misericordia verso l'umanità alla misericordia verso i peccatori verso gli erranti e cambia il cuore perché non guardiamo gli altri con giudizio con ira con spirito di rivassa ma con spirito di misericordia di perdono perché gesù venendoci trovi pronti alla sua chiamata ad essere nelle sue mani strumenti di perdono di misericordia di salvezza per tanti nostri fratelli che per le quali lui ha donato la sua vita sulla croce a lui sia la lode la gloria per tutti i secoli dei secoli amen il tuo amore di madre sa sciogliere anche i cuori più induriti vergine santissima madre nostra apri anche il nostro cuore al tuo perché si adempia presto la promessa di gesù di fare cieli nuovi e terra nuova a lui gloria onore potenza per tutti i secoli dei secoli amen e su tutti voi fratelli scende la pace del signore e la sua gloria risplende nella nostra vita fin d'ora vi conceda potenza di spirito santo ricchezza di amore fermezza nella fede perché la parola del signore si adempie a lui gloria per i secoli eterni amen